Dalla convenzione con il Napoli Calcio solo vantaggi per il territorio e l'immagine dell'Abruzzo. In estrema sintesi è quanto sottolineato dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio in conferenza stampa all'indomani del decreto di archiviazione della Corte dei Conti in merito all'esposto sull'accordo stipulato tra Regione Abruzzo e Club Partenopeo per ospitare i ritiri precampionato a Casteldisangro per sei anni dal 2020 al 2025 e rinnovabili altri sei al costo di un milione di euro l'anno. I costi dell'operazione erano finiti nel mirino dei giudici contabili dopo la segnalazione del Movimento 5 Stelle. Marsilio. Io spero che queste polemiche strumentali e stupide contro la Regione Abruzzo che sta avendo forse il torto di sfidare l'egemonia del nord e delle regioni dell'arco alpino nell'offrire anche ospitalità di alto livello per squadre importanti come avviene da decenni. in tutto l'arco alpino compreso per il Napoli non a caso il Trentino sta rilanciando e chiede al Napoli l'esclusiva cioè in Trentino lavorano per escludere l'Abruzzo dall'orizzonte del Napoli Calcio spero che in Abruzzo lo capiscano tutti quanto sia invece utile averlo e quanto abbia portato di beneficio al territorio e la si finisca con polemiche che danneggiano soltanto e fanno solo del male alla nostra Regione. Marsilio ha anche ricordato il forte incremento delle presenze turistiche nell'Alto Sangro rispetto alla 2019 sono aumentate del 65% nel 2020 e del 66% nel 2021 senza parlare dei 150 milioni di eccessi annui sui canali social del Napoli Calcio dove appare il logo della Regione Abruzzo. Con questi numeri, dice ancora il Presidente, chi polemizza sul ritiro del Napoli in Abruzzo dimostra mancanza di cultura turistica. Leggere certe critiche, certi commenti di chi fa il solone e pretende di insegnarci come si fa la promozione e il marketing territoriale in una Regione che aveva utilizzato i fondi europei nel precedente ciclo, quello che sta terminando e non c'era un euro per fare la promozione territoriale e turistica. Non aveva nominato un assessore al turismo. Le politiche turistiche in Abruzzo sono di fatto inesistenti da decenni. Noi, io sto cercando con la mia squadra e la mia maggioranza di fare invece promozione turistica, di fare marketing territoriale, di far conoscere l'Abruzzo agli italiani e al mondo intero e con il nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei che abbiamo e stiamo attendendo le autorizzazioni dall'Europa e dal governo per poter cominciare a spendere quei soldi, abbiamo messo oltre 50 milioni di euro nella missione relativa alla promozione e al marketing territoriale e quindi sappiamo, avremo finalmente le risorse per far conoscere davvero l'Abruzzo e cercare di moltiplicare le entrate e gli ingressi turistici nel nostro territorio che può offrire molto di più di quello che ha fatto fino ad oggi.